Il 23 maggio al Museo della Montagna del Monte dei Capuccini è stato presentato il documentario Terre Magellaniche, un DVD realizzato anche con il contributo del Consiglio regionale che riproduce il film concerto girato nel 1933 dal missionario salesiano Alberto Maria De Agostini nell'America australe. Il film sarà visibile al Museo della Montagna e a giugno sarà proiettato a Palazzo Lascaris.